Io ero lord di questo posto, prima che i crosi e i rati avevano il loro domaine. La risolutezza per questa missione, quindi se non utilizzerò la gaza salirà di livello. C'è anche l'icona qui della cacciatrice di tombe, con il piccone e un po' di soldini a terra. Allora, anche stavolta ho potenziato un po' di cose fuori camera. Ho anche finalmente attivato questo. Reclute esperte, eroi con risolutezza di livello 1 talvolta appariranno nella dirigenza. Poi, vabbè, potenziato un po' di armi, armature e abilità. Voglio vedere se è possibile di fare anche i primi boss di Dedalo e Baia entro oggi. E ho già creato questa formazione. Nibbio, Big Boss, Canarino e Aquila per andare nel Dedalo. No, media, veterano, livello 3, non se ne parla. Facciamo esplorazione. Magari questa volta potrò risparmiare un po' di... Non mi ricordo se la vanga serve. Ok, forse stavolta posso risparmiare un po' di risorse, un po' di oro. Sì, vabbè, non commento neanche la visione di sti cosi. Barile di Distillato. Ok. Oh, cavolo, c'è il coso. Ah, vabbè, ora ci arriviamo. Ho anche cambiato un po' di abilità per cercare di dare un senso a questa squadra. Meno 5 schivata, meno 5 velocità. Ma schifosissimi serpenti con la bocca dentata. E non ha senso marchiare, è un po' inutile per la prima posizione l'Aquila. Meno 5 schivata, sì, ok. Invece rappresaglia, quello che mette risposta. Facciamo rinforzo. Ah, che è per tutta la squadra, come ricordavo. Qui il lebroso combatte con uno spadone che però è spezzato. Ora, qui c'è questo coso, eh... Forse non dovrei, questi sono tutti di livello 1. Tranne il canarino. Sicuramente me ne pentirò e morirà qualcuno, ma almeno vi mostro qualcosa di nuovo. Altare dell'orrore. Un'iscrizione riporta, il sacrificio del fuoco è la porta per la rovina. Deponete qui una torcia se sentite il richiamo del vuoto. L'infinita malvagità delle stelle. E mi si è pure fottuta tutta la squadra. Devo iniziare con un gran finale perché devo riordinarmi un po'. Eh, non fa molti danni, caspita però. Sì, non dovrei essere qui, non dovrei cercare di affrontare questo coso. Velocità è schivata per tutti. Eh, non ci arriva a colpire lui. Così spingo in avanti. No vabbè tanto vale ucciderli questi. Cioè non siamo più nel dungeon, vedete siamo stati portati. Qualche dimensione cosmica. Eh sì, mi sta mettendo... A dura prova il sanguinamento. È quello che si meritava. Buono, buono, la velocità è ridotta. Così per tre turni gli farò più danni. Quattro danni per turno. Questa aumenta la resistenza al sanguamento. Ormai forse però è tardi, dovrei cercare di ucciderlo prima di morire io. Non so se posso farcela, eh. Si fanno sentire questi danni. Per esistenza al sanguamento 40%. Danno eroe 2 o 3. E qui non faccio molti danni. Dannazione. Uh! Ha! Ho delle bende però. Dovrei assolutamente utilizzarle. Ok, lui non ha più sanguinamento. Faccio ancora rinforzo. Eh, non gli faccio molti danni. Ancora rinforzo. Più 20% cure ricevute, no? Pochi danni. Troppo pochi. Ancora a metà vita. Prossimo turno lui usò le bende. Sentite, non facciamo cazzate dai. Fa sempre questo dannatissimo attacco. Adesso è nelle retrovie. Mi ha messo anche morbo. Eh, sì. Qua ci morirò o dovrò scappare. Assolutamente. Meno 25 è schivata. C'è due danni, non ho un curatore. Doveva essere una missione di routine. C'è due danni. C'è due danni. No, 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 no. Troppa vita. Spingi di tre. Movimento resistenza 40%. Li ha pure abbaffati. E se me ne sbarazzo poi questo ne evoca altri. Per questo voglio cercare di spingerli. E' pure schivato. Per questo. Porca miseria. E' terribile questo. L'orrore si chiama. Non credo proprio di potercela fare. Ancora 20 di vita. Coraggio. Si sta prendendo di coraggio appunto. 3, 6. Fuoco di sbarramento. Meno precisione e meno critico. Oppure lo marchio. Devo marchiarlo nella speranza di fare poi un critico più avanti. Mi scoppia il cuore. Devo usare l'antidoto. Non posso curarlo con del cibo però. E' molto a rischio Big Boss. Questo è su se stessi. Non posso curare lui. Ok adesso è in seconda posizione. Cavo punto di morte. Mi sa tanto che per Big Boss non c'è più niente da fare. Ma forse posso riuscire a vincere lo scontro. No non il canarino. A lui ci tengo. Cosa stiamo facendo? E' la battuta finale. 2, 3 e gli metto sanguinamento. Oppure 3, 5 diretto. No meglio sanguinamento. Diciotto di vita dai ragazzi. 11 e prende 4 di danno. Dai che è quasi fatta. Ok lui è morto. Punto di morte. Non morire vecchio mio. Schivato pure. Oh. Bellissima questa frase. Ancora in punto di morte. Sto avendo molta fortuna. Per noi è finita. Finita. Anche un veterano come lui. Sta avendo paura data questa situazione. Cosmica. Surreale. Dai che manca solo sto schifo. Eh vabbè schivato. Cavolo pure lei. La risoluzione di Big Boss. Coraggioso. Wow. Tutti in formazione presto. Saremo invincibili. E' riuscito a reagire. Un momento di coraggio. Eh non ce l'ho fatta a leggere. A volte gli eroi rispondono all'ondata di stress diventando eroici. Questa condizione di potenziamento durerà fino al prossimo accampamento o al ritorno al villaggio. E conferisce bonus alle statistiche e altri benefici. Qua... Qua dobbiamo visitare un dottore tutti quanti. Appoggiati a me non occorre chiedermelo. Questa vedete è l'esatto opposto di quando uno è afflitto. Quando uno è... Con la virtù rincuora gli altri costantemente. Che cavolo! Voglio solo farla finita. Ma che cavolo! Oh! Oh! Uh! Scontro molto... ...duro. Buio totale. La fiaccola completamente estinta. Ci sono questi sinistri suoni di sottofondo. Candela dell'antenato. Rarità ancestrale. Più 15. Se la torcia è sopra il 50. Più 2. Ah! Più 10% stress. Però... Caspita! Fortissima sta roba. Ora che cosa dovrei fare io? Se fossi una persona intelligente. Scappare. Però... Abbiamo detto se fossi una persona intelligente. Qui noi ci stiamo dimenticando... Che... Non lo sono. Fatemi accendere una torcia perché non ce la faccio più a sentire sto coso. Se la torcia è sopra il 50. Ok. A chi lo do questo? Direi al Nibbio. Devo stringere i denti. 90% delle stanze sono a metà strada e la prossima è vuota. E mo' so' cazzi. Tanti cazzi. E questa è la fine dei miei tormenti. Basochistico. No, no, no. Per la lucertola è chiaro. Sacrificio o morte. Terrorizzato. No, qui sta andando tutto a puttana. Nessuno può fermare questi mostri. Ai, ai, ai. Ti prego. E' abbendata, baciami. Non mi importa come. Ma forse questo può salvarmi. Non lo so. Sono tutti troppo stressati. Hanno visto orrori indescrivibili. No, c'è una battaglia più avanti. Acqua santa è ad avercela. E' da folli continuare questa spedizione. Assolutamente da folli. Bisogna pur morire nella vita. Sì. Sono tutti dei cadaveri che camminano. Dovremmo muoverci nell'oscurità come dei mostri? Sono morto. Assolutamente. Perché questi sono quattro cazzuti. Devo sbarazzarmi di qualcuno quanto più in fretta possibile. Anzi, devo curare lui che è sul punto di morte. Non vedi quanto sono riconoscente per il dolore? Eh sì, fantastico. Mi ha pure fatto... Ah ok, non è sprecato almeno il turno. 2 e 5, 2 di danno, dai ammazzalo. Ok. I miracoli esistono a quanto pare, ma io non sono certo un santo. Non so che caspita intendesse dire, ma almeno ha tolto un po' di stress. Meno 5 è schivata, meno 5 è velocità. No, preferisco avere più schivata io e velocità. Perché comunque il loro turno ora arriverà e saranno dolori per tutti. Fammi male, voglio di nuovo provare qualcosa. Oh mio Dio, questo si è marchiato, questo pazzo. Ne ho due marchiati. Ci mancava pure il regurgito di questo schifo. Porca miseria. Ai ai ai. Comunque solo io vedo l'ironia nel fatto che... Un suino sia un macellaio, cioè... A me sembra alquanto ironico. Ottimo canarino. Ah 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 ah. Via questo agominio. I miei dardi potranno fermare tutto questo? Io spero di sì. Sono congelata. Passa. Fantastico. Miracoli esistono eh sì. Ne avrei un po' bisogno di miracoli in questo momento. Questo. Sono congelata. E vabbè. Completamente in preda al panico. Completamente in preda al panico. Completamente in preda al panico. Mentre la vita scorre via si svelano terribili divisioni del nulla. La loro formazione è bruciata. Maintain l'offensive. Ho bisogno che qualche divinità venga in mio soccorso. Una fortuna. Aspettando per essere spenta. Ok cibo. Ma sono tutti messi male. Tutti che sono stati in punto di morte. E tutti che ancora stringono i denti. Che cos'è sta cosa? Un mucchio di pergamene. La scrittura è sgraziata e difficile da leggere. Le pergamene sono scritte piene di... Finalmente qualcosa per cui sorridere. Mi ha tolto un tratto negativo. Però non ho più torch. Mancano ancora due stanze dopo questa. Quanto sarebbe ingiusto morire dopo aver affrontato tutto questo. E te possino. I limiti del corpo e infarto. Lo stress continua ad accumularsi. Oltre il punto di afflizione. Se la barra dello stress di un eroe si riempie completamente una seconda volta il loro cuore cede rat. Presta loro soccorso e ritirati al villaggio prima che succeda. La morte ci attende tutti. Tre turni. No, 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 no. È il momento di scappare. Perché... Scusa, qual è la sua resistenza al colpo di grazia? 67%. No. Abbiamo resistito quanto più a lungo possibile. Gli eroi subiranno stress dalla sconfitta. Tranquillo che già sono abbastanza stressati. La grande adversità ha una bellezza. È il foglio che tempere. Almeno ho comunque portato qualcosa a casuccia. Non hanno potuto esplorare per intero il Dedalo, eh, lo so. Gaze ora avventuriero livello 2. Questi devo... Devo chiuderli in manicomio. Non posso affrontare un'altra missione come l'ultima. Ma si è anche beccato una malattia. Ah sì, deperimento cronico. Ai ai ai. Visita di gruppo al manicomio. No, aspetta. Questo è sempre per curare i tratti. Continuo a dimenticarmene. Allora, il lebroso è comunque un religioso. Quindi... Eh, devo recuperare molto stress. Quindi mettono nel più costoso che credo tolga più stress. Conoscerò la soluzione solo attraverso il sangue. Il canarino aveva qualche... No. Il canarino... Perché vado sempre nella dirigenza anziché la taverna. Non ho abbastanza soldi per andare a puttane. Questi sono i problemi nella vita. Porca miseria. Accidentaccio. E non posso curarli comunque da nessun'altra parte perché sti soldi mi servono per la prossima missione. Vedete, in questo senso il gioco è molto, molto lento. Addilente. Snervante. Perché... È lento. È lento. Adesso io dovrò fare un'altra missioncina semplice. Qui c'è stato l'imprevisto di quell'orrore che ho voluto affrontare per mostrarvelo. Quindi è vero, però... Nel gioco capitano anche imprevisti. Quello l'ho imboccato, l'ho accolto io per mia scelta, ma ci sono altri imprevisti nel gioco. E questa cosa diluisce sempre di più il gameplay. Facciamo una baglia corta così non spendo troppe risorse. Mi serve... Morbo, quindi... Corvo e gazza. Gufo. E poi, boh, qualcun altro un po' a caso, qualcuna. Rifiuto il vostro accordo. Ah, perché... C'è l'abominio. Facciamo il passero. Ma, fa sanguinamento. Beh, potrei andare di forza brutta e fregarmene. Vabbè, facciamo così. Allora, questa non mi serve. Prendo questa. Ho appena realizzato che questo aggettino qui, più 20% morbo, è inteso come resistenza al morbo. Morbo. Vedete, morbo 100. Morbo 80. Morbo 80. Eh, quindi non era quello che avevo in mente, ma vabbè, allora meglio di niente, credo. Meno stress. Meno stress. Precisione corpo a corpo. Questa cosa qui è una bestia e più 10%, abilità corpo a corpo. Non ho visto che cosa c'era questa settimana dalla gitana, ma... Anche volendo non potrei fare acquisti Baia quindi Vabbè le bende sono per il sanguinamento ma me ne posso fregare Che cavolo vabbè facciamo un po' di economia Cioè per costrizione non per scelta Ah mi sai che ho già una vanga vero con la gazza Ok 8 unità di cibo per questa missione No vabbè è corta Gli schiavi esploderanno se non tene liberi alla svelta Eh sì ho tanti bei ricordi di quegli schiavi Non ho portato no non ho portato Peccato Anche in questo caso sono tutte donne Morbo in arrivo Altro morbo in arrivo Questo già prende 6 Questo 8 Questo morirà da solo in due turni Anzi adesso toccherà di nuovo a loro quindi Potrò mettere altro morbo Questa proprio riesce a vomitare schifo perché ha quella trasformazione Non devo nemmeno faticare Ok niente combattimento qui ma non potevo saperlo Meglio continuare a muoverci lo so E' pieno di queste carcasse Voi siete comuni umani E' schifato Accidenti Ci penso io a terra E questi sono condannati a morte E anche questo Vabbè non mi serve a nulla Non ho cure in questo party Questo è vero Sopra 50 ok Sono fortissime queste tre assieme con il loro morbo Cioè guarda che cosa ho creato già Questo è morto Questo gli do una mano io Barriera crostacea Questo c'ha queste sacche scrotali Che gli si gonfiano Questi occhietti vispi Questo ha molta protezione ma non può ignorare il morbo Vediamo se riesco a assordirlo Ok Stirpazione salata E due danno per tre turni è un po' fastidioso Che cavolo schiva tutto sta medusa volante Back to the pit Confidence surge as the enemy crumbles Ha almeno la schivata Cavano molti combattimenti Cultista accolito Mi trasformo o non mi trasformo Ma sì dai Gli altri non sono d'accordo con la mia decisione Wow L'ha spinto Questo fa avversi Poca vita Eh lo so Eh qua non posso fare niente con l'abominio Come mai questa è ancora viva scusami Non doveva morire tipo Vent'anni fa Mi sa che mi ero calcolato male i danni Eh non ci arriva da lì Però posso fare questo urto Una bella capocciata Questa non me la ricordavo Più 20 resistenza alle malattie Meno due schivata Qui è tipo una nave Un relitto Con resti umani Di qua o di qua Ancora due unità Tanto vale Esattamente Ok Questa è l'ultima stanza Questa è sempre Cleptomane Eh ma che sfiga Questi iniziano a proteggersi a vicenda Tre di vita Magazza Lo schiavo Annegato È da temere Con questo suo pancione Che ondeggia Le costole Sposte Come se fosse stato Morso da qualcosa Sposte Sei No vabbè Voglio sbarazzarmene Voglio essere Certo 14 Danno eroe 10 20 Vediamo un po' Questa ora si incazza di brutto La vendetta No Porca miseria Molto fastidioso Quel colpo Devo curare il sanguinamento A tutti i costi No no Non ci voleva 25 resistenza Assordimento Dai Guarda la barra Come Sparisce In fretta Facciamola finita Success So clearly In view Or is it merely A trick of the light At last Wholesome marine life Can flourish If indeed There is Such a thing Perhaps Things Are not as bad As they seem Tutti Gli eroi inattivi Più 33% Stress curato Una settimana Favorevole E mentre la campagna Si protrae Eventi recenti Hanno rincurato I nostri ranghi Ci giunge voce Che il morale Non è mai stato Così alto Tutto questo Per chi rimarrà A casetta Questa settimana Quindi Questi devo Lasciarli qui A tutti i costi Costano troppo Questi Neanche li leggo Più uno critico Meno velocità No No Troppe risorse Uh Wow Arrivato qualcuno Di livello 2 E di livello 1 Eh Questi Me li prendo Questa è il falco nero E questo Un armamento Un armamento Ancora Con un propósito Un guerriero Mi ha fatto qualcuno Qualcuna Qualcun'altra Viene anche Con l'equipaggiamento Già di livello 3 Wow Vuol dire Che i nuovi Due arrivati Sono I più forti Che ho Falco nero E qualcun'altra Però non hanno le abilità Ah no Aspetta In teoria Si Tutte le abilità Già sbloccate Di livello Wow Togliamo Ste Due scemenze Mettiamo Queste Il falco Come vi dicevo Ha molte abilità Anche con il gancio Vieni qui Sono Tutte utili A seconda Delle circostanze Sono a metà Della baglia Questa è media Però non posso Mandare loro Senza un curatore Direi di rinunciare Al gufo No Tanto il passero La gazza E il corvo Non hanno Molto stress Facciamo Così Of blight And blood Perché c'è un buon mix Di Blight Sarebbe Il morbo E Blood Il sanguinamento I dardi Però non vanno Bene Dalla seconda Ah Era una situazione Simile A quella Di un'altra Volta Artiri Abissale Non mi serve Dalla seconda Stordimento Torcia Meno 5 Però Oppure Abbasso Il danno Ma vabbè Preferisco Lo stordimento Tanto Nella baglia Non ci sono cose Che fanno Molti danni Diretti Almeno per ora Tutti gli altri Recupereranno Stress Ok Sistemo Al volo Gli ornamenti Ok Grazie a tutti.